Con questo tutorial vediamo delle espressioni di numeri naturali con le proprietà delle potenze. Partiamo da questo esempio. Qui ho una moltiplicazione e vado a sommare allora gli esponenti. 3 più 5 fa 8. 2 alla 0 invece vado a scrivere 1 e qui ho una potenza di potenza e scrivo 3 alla 6. Adesso eseguo questa divisione e allora avendo la stessa base sottraggo gli esponenti. 8 meno 6 fa 2 e il resto lo ricopio. Svolgo ora i calcoli qui all'interno delle quadre. 2 alla seconda fa 4 meno 1 è 3. Ho tolto tutte le parentesi perché adesso non mi servono più e adesso effettuo questa moltiplicazione. 3 per 3 alla sesta ottengo 3 alla settima diviso 3 alla quinta. Avendo la stessa base sottraggo gli esponenti. 7 meno 5 ed ottengo 3 alla seconda e 3 alla seconda è pari a 9. Vediamo quest'altro esempio. Allora vado a fare subito questa potenza di potenza. 3 per 5 fa 15. Poi siccome che qui ho un segno meno e un segno meno sviluppo 3 alla seconda e 2 alla seconda. Già che ci sono vado anche a sviluppare questa potenza di potenza. Eseguo ora questa divisione. Ho 2 alla 15 diviso 2 alla 11 ed ottengo 2 alla quarta. 2 alla quarta è 16. Adesso svolgo 2 alla quarta. 2 alla quarta è pari a 16. Ora 16 meno 9 meno 4 ottengo 3 e quindi vado a scrivere 3 alla quinta. Vado adesso a ricopiare tutto senza le parentesi e quindi scrivo 3 alla quinta per 3 alla nona diviso 3 alla 12. Eseguo ora questa moltiplicazione e quindi vado a sommare gli esponenti 5 e 9 ed ottengo 3 elevato alla 14 diviso 3 alla 12. Effettuo ora questa divisione e quindi eseguo la differenza tra questi due esponenti. 14 meno 12 è 2 ed ottengo 3 alla seconda e quindi ho come risultato 9. Vediamo quest'altro esempio. Allora eseguo subito questa potenza di potenza e vado a fare 2 per 3 che fa 6. Poi ho una moltiplicazione e sommo questi esponenti e al posto di 2 alla 0 scrivo 1. Eseguo ora questa divisione andando a fare 6 meno 4 ed eseguo anche quest'altra divisione effettuando la differenza di 14 con 13. Adesso svolgo questa parentesi. 6 alla seconda è 36 meno 1 vado a scrivere 35 diviso 5 meno 2 meno 1. Adesso 35 diviso 5 fa 7 meno 2 meno 1 e 7 meno 2 fa 5 meno 1 ed ottengo 4. Vediamo quest'altro esempio. Allora questo 3 alla seconda lo vado a sviluppare perché qui c'è un segno meno. Qui effetto una divisione e quindi sottraggo gli esponenti. 4 alla 0 lo vado a scrivere 1, 2 alla terza lo sviluppo e scrivo 8. Qui effetto la moltiplicazione tra queste due potenze e quindi vado a sommare 2 con 5. Ed infine svolgo questa potenza di potenza andando a fare 2 per 6. Adesso svolgo 2 alla quarta e faccio 9 meno 4 meno 1. Questo per 1 al passaggio successivo non lo vado a ricopiare. Svolgo poi questa potenza di potenza andando a fare 7 per 2. Sommo ora 4 più 8 e scrivo 12, poi meno, effetto questa divisione e allora vado a fare 14 meno 12 che è 2 e scrivo 3 alla 2. 12 meno 3 alla seconda è 9 e adesso vado a fare 12 meno 9 ed ottengo 3. Vediamo quest'altro esempio. Allora effetto subito questa divisione andando a fare 6 meno 3. poi questo 3 alla seconda e questo 2 alla 0 li vado a sviluppare e scrivo 9 ed 1. Qui ho 5 alla seconda alla 0 che è 1 e quindi vado a scrivere 1 per 5 alla seconda. Ho un meno 2 alla seconda per 5 che lascio così. Svolgo ora questa potenza e vado a scrivere 8. Qui svolgo 5 alla seconda e qui faccio 2 alla seconda per 5. Svolgo ora questi calcoli e faccio 9 più 1 fa 10. 10 meno 8 è 2 e quindi scrivo 12 diviso 2 meno 10 diviso 25 meno 20 e scrivo 5. Ora 12 diviso 2 è 6 meno 10 diviso 5 è 2 e poi 6 meno 2 è 4. Vediamo quest'altro esempio. Siccome che qui ho dei più ed un meno, svolgo tutti questi calcoli. qui sommo 7 con 11 effettuando la moltiplicazione tra potenze e qui svolgo questa potenza di potenza andando a fare 5 per 7. Poi ho un altro prodotto e sommo 3 con 6. Svolgo questi calcoli ed ottengo 22 diviso 2 e poi ho 18 per 2 che è 36 e quindi scrivo più 5 alla 36 diviso 5 alla 35. Poi fisso l'attenzione su questa divisione. Qui ho 4 alla 9 e qui 2 alla 16. Per effettuare questa divisione utilizzando le proprietà delle potenze, questo 4 lo devo scrivere come 2 alla seconda. E quindi scrivo meno 2 alla seconda alla 9 diviso 2 alla 16. Ora 22 diviso 2 fa 11 più, qui ho una divisione ed effetto quindi una sottrazione degli esponenti ed ottengo 5 alla 1 e quindi scrivo 5 meno, svolgo questa potenza di potenza e scrivo 2 alla 18 diviso 2 alla 16. 11 più 5 fa 16 meno 18 meno 16 è 2 e scrivo meno 2 alla 2. 16 meno 4 ed infine 16 meno 4 ottengo 12. Vediamo quest'altro esempio. Allora effetto subito questa moltiplicazione andando a fare 2 più 5 che fa 7. Qui c'è un'altra moltiplicazione, vado a fare 3 più 1 che fa 4. e poi svolgo questa potenza di potenza andando a fare 3 per 3 è 9. 5 alla 0 lo scrivo come 1. Svolgo ora questa divisione andando a fare 7 meno 6 e poi svolgo questa potenza di potenza. Siccome che qui c'è un segno meno, svolgo 2 alla terza e vado a scrivere 8. Qui c'è un segno meno e qui c'è un segno meno, allora 5 alla seconda lo vado a scrivere come 25. Adesso svolgo questa divisione e vado a fare 8 meno 6. 3 alla seconda è 9, 9 meno 8 fa 1 più 2 fa 3. Quindi complessivamente qui all'interno c'è scritto 3. 3 per 3 alla 11 posso scrivere direttamente 3 alla 12. Poi ho diviso 3 alla 9 e poi qui ho meno 25 meno 1 e posso scrivere meno 26. Ora svolgo questa divisione e vado a fare 12 meno 9 ed ottengo 3. E quindi ho 3 alla terza meno 26. Ora 3 alla terza è pari a 27 e quindi scrivo 27 meno 26 ed ottengo 1. Vediamo questo altro esempio. Siccome che qui ho dei meno e qui ho un più, vado a svolgere tutte queste potenze. Qui vado a svolgere la potenza di potenza andando a fare 4 per 2. Qui ho un'altra potenza di potenza e scrivo 2 per 3 che fa 6. Qui ho una moltiplicazione tra potenze che hanno la stessa base, vado a fare 7 più 8. Svolgo adesso qui all'interno i calcoli. Ho 27 più 3 che fa 30, meno 9, meno 1 ed ottengo 20. Quindi scrivo 20 diviso, qui ho 2 alla ottava diviso 2 alla sesta, faccio 8 meno 6 che è 2. Quindi mi resta qui all'interno 2 alla seconda e vado a scrivere direttamente 4. E chiudo la graffa per 2 alla 15 diviso 2 alla 13, faccio 15 meno 13 e quindi ottengo 2. e scrivo 2 alla seconda meno 10. Adesso 20 diviso 4 è pari a 5 per questo 2 alla seconda posso scriverlo tranquillamente come 4 meno 10. Ora 5 per 4 fa 20 meno 10 e 20 meno 10 è pari a 10. Vediamo quest'altro esempio. Fisso l'attenzione su questa parentesi quadra. Siccome che qui c'è un segno meno, questo 3 alla seconda lo svolgo come 9, mentre qui effettuo la divisione facendo 4 meno 2 e quindi ottengo 2 alla seconda. Svolgo poi questa potenza di potenza, questo 5 per 2 lo posso scrivere come 10, qui vado a sommare gli esponenti andando a fare 5 più 4 e poi questo 11 elevato alla 0 lo scrivo come 1. Svolgo ora questo 2 alla seconda e scrivo 4 ed ho 9 meno 4 e quindi vado a scrivere direttamente 5 elevato alla seconda che è questo qui e quindi scrivo 5 alla seconda per 5 elevato alla 10 diviso 5 alla 10. Poi ho meno 10 alla quarta diviso, qui ho 10 alla nona diviso 10 alla quinta e quindi faccio 9 meno 5 ed ottengo 4 e quindi scrivo 10 alla quarta meno 10 per 1 e quindi scrivo 10. Adesso fisso l'attenzione su questa parte. Questo 5 alla seconda una volta è moltiplicato per 5 alla decima, una volta è diviso per 5 alla decima. Allora posso semplificare. Osservo poi che ho un'altra divisione, ho 10 alla quarta diviso 10 alla quarta, posso semplificare tutto e scrivere 1. Quello che mi resta è questo 5 alla seconda e vado a scrivere 25. Qui ho semplificato e quindi non scrivo niente e poi ho meno 1 meno 10 e quindi scrivo meno 1 meno 10. Ora 25 meno 1 che fa 24, 24 meno 10 è pari a 14. Vediamo quest'ultimo esempio, allora fisso l'attenzione su questa parentesi. Allora qui vado a sviluppare questo 2 alla seconda e quindi ho 4 per 3 che fa 12, 12 meno 5 ed ottengo 7. E quindi vado a scrivere, apro la graffa, 7 per 7 alla quinta, poi tutto quanto diviso 7 alla quarta meno e poi vediamo quello che c'è all'interno di queste quadre. Allora siccome che qui c'è un segno meno, svolgo questo 3 alla seconda, quindi 3 alla seconda fa 9 per 2 è pari a 18. Quindi 18 meno 13 è pari a 5 e quindi vado a scrivere, apro la quadra, 5 alla quarta per 5 alla seconda. Questo 4 è questo 4 e questo 5 alla seconda l'ho ricopiato. Poi qui ho potenza di potenza e quindi vado a scrivere diviso 5 alla quarta e chiudo la graffa diviso. Vediamo cosa c'è all'interno di queste quadre. Allora questo 6 alla 0 lo vado a scrivere come 1 e quindi scrivo 1 più 5 alla settima diviso. qui ho potenza di potenza e quindi vado a scrivere 3 per 2 che fa 6, quindi 5 alla sesta e chiudo la quadra. Svolgo ora queste operazioni. 7 per 7 alla quinta fa 7 alla sesta. 7 alla sesta diviso 7 alla quarta basta fare 6 meno 4 che è 2 e quindi ottengo 7 alla seconda meno... Vediamo cosa ho all'interno di queste tonde. Allora ho 5 alla quarta per 5 alla seconda e faccio 4 più 2 fa 6 e quindi scrivo 5 alla sesta poi diviso 5 alla quarta e chiudo la graffa diviso. Allora qui faccio subito questa divisione. 7 meno 6 è 1 e quindi ottengo 5 alla 1 che è 5 più 1 e quindi vado a scrivere 6. Apro la graffa e vado a svolgere questo 7 alla seconda. Qui c'è un segno meno e quindi 7 per 7 fa 49 meno... 5 alla sesta diviso 5 alla quarta faccio 6 meno 4 che è 2 ed ottengo 25. Chiudo la graffa diviso 6. 49 meno 25 è pari a 24 e scrivo 24 diviso 6 e 24 diviso 6 è pari a 4. E con questo termino il tutorial su come poter svolgere espressioni di numeri naturali con le potenze. Grazie.